Lo Statuto Comunale approde in Consiglio ieri sera, prima seduta in seconda convocazione per trattare gli articoli che compongono la Carta Costituzionale che regolamenterà i rapporti tra la cosa pubblica e i cittadini e i rapporti internellente. Questo in sintesi, in realtà col passare delle sedute avremo modo di vedere quanto è importante e quale novità apporta il nuovo Statuto Comunale rispetto a quello vecchio e datato. Ieri in un clima tranquillo il Consigliere Comunale hanno proceduto all'approvazione dei primi sette articoli, ma ancora prima hanno approvato all'unanimità la mozione per il mantenimento dell'autonomia del liceo scientifico, di cui è primo firmatario il Consigliere Comunale Fabrizio Comisi. Ampio spazio poi è stato dato ai Consigliere attraverso l'articolo 40, riflettori puntati sotto il sport urbano e costi della politica. Quest'ultimo argomento ha suscitato parecchie perplessità e non poche prese di posizione, contraria all'idea lanciata dall'assessore Piero Gurrieri di dimezzare le indennità di consiglieri e assessori. Intorno alle 22.30 circa il Consiglio Comunale ha iniziato la trattazione del punto e l'ordine del giorno, vale a dire lo Statuto Comunale, e dopo aver approvato i primi sette articoli e avviato la discussione dell'ottavo articolo, la seduta è stata aggiornata il prossimo 4 aprile. Grazie a tutti.